ora andiamo a disegnare il nostro oggetto in tridimensionale l'oggetto è molto semplice da realizzare lo vedremo prima cosa che programma usare io ho pensato di scegliere open scad anche perché fa ragionare un po e tra l'altro c'è anche questo in versione multipiattaforma quindi lo trovate anche per windows in open scad non esiste a meno che io sappia un comando per disegnare poligono regolare è molto semplice realizzarlo dandoli come base il file di xf che abbiamo creato in precedenza allora per realizzare il parallelepipedo a base esagonale di altezza 15 mm andiamo ad utilizzare la funzione linear trattino basso extrude aperta parentesi adesso andiamo a l'altezza height uguale mettiamo 15 dopo chiediamo la parentesi e adesso andiamo ad indicare che come base del nostro solido tridimensionale andremo ad utilizzare il nostro disegno fatto con librecad in dxf usiamo import aperta parentesi fra virgolette mettiamo il nome del file esagono 2 perché quello più grande chiusa virgolette chiusa parentesi punto e virgola andiamo a vedere adesso se il comando funziona andando su design compile scusate per l'unione inglese ma come vedete il nostro parallelepipedo a base esagonale è riuscito con la rotellina solito come librecad possiamo ingrandire spostare se usiamo il pulsante sinistro possiamo addirittura modificare il punto di visualizzazione allora questa la scatola esterna noi adesso dobbiamo creare il vuoto interno in modo che diventi un tappino praticamente in open scad possiamo praticamente sottrarre un secondo parallelepipedo al primo usando il comando difference difference è una struttura e quindi dobbiamo usare le parentesi grafe per indicare l'inizio e la fine della procedura scriviamo difference aperta chiusa parentesi shift alt gr per digitare la parentesi grafo aperta ora facciamo rientro per facilitare la lettura del nostro codice andiamo a capo adesso aggiungiamo una seconda riga che indica alla struttura il parallelepipedo che andrà a sottrarsi a quello che abbiamo disegnato però prima lo dobbiamo spostare l'asse z di 2 mm per fare il fondo della scatola per spostare l'inizio del nostro parallelepipedo usiamo il comando translate allora aperta parentesi onda aperta parentesi quadra con l'alt gr e la e e adesso andiamo a indicare per tutti e tre gli assi di quanto ci spostiamo chiaramente abbiamo detto ci spostiamo solo l'asse z e quindi digitamo 0,0,2 chiudiamo la parentesi quadra con l'alt gr più chiudiamo la parentesi tonda e poi adesso tracciamo il nostro secondo parallelepipedo a base esagonale digitando lo stesso comando che abbiamo digitato precedentemente io lo faccio con coppia e incolla cambiando solo il nome del file praticamente cambiamo l'1 al posto del 2 a questo punto chiudiamo la parentesi graffa shift alt gr più e vediamo se il tutto ha funzionato abbiamo lasciato 15 come altezza perché diciamo è indifferente il nostro parallelepipedo uscirà dalla scatola ma non è influente sul risultato andiamo a ridisegnare il nostro oggetto e come vedete ha funzionato salviamo il file nella cartella documenti dove abbiamo salvato i nostri file dxf allora file salva con nome mettiamo tappo vite 17 grazie l'attenzione l'attenzione